Mattinata terramana per il segretario nazionale della CGL Maurizio Olandini che ha fatto una prima tappa nella corte interna della biblioteca delfico per visitare la mostra dedicata al centenario dalla nascita di Tom di Paolo Antonio. Poi una visita nella vicina sede del Lazzu dove ha visto il murale dedicato a Tom. E infine le dichiarazioni ai giornalisti. Il segretario della CGL ha parlato di salari minimi, di precariato e di sicurezza nei posti di lavoro. Credo che sia il momento di misure straordinarie. Innanzitutto c'è un primo problema che è il reddito e il salario. La gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese e quindi bisogna mettere in campo dei provvedimenti che siano in grado di affrontare questa situazione. L'unattantum che hanno dato non è sufficiente, 200 euro sono sicuramente un fatto positivo ma l'inflazione, i prezzi stanno portando via un'intera mensilità all'anno a chi lavora e quindi c'è bisogno di tassare molto di più gli extra profitti, c'è bisogno di trovare risorse per sostenere. Poi è il momento di fare delle riforme strutturali a partire da una riforma fiscale degna di questo nome. Questo oggi era l'obiettivo principale, cioè quello in pratica di fare una riflessione sul momento veramente difficile che viviamo, straordinario ma con grandi e troppi interrogativi che pesano sul destino del paese, dell'umanità più in generale ma anche dei territori. Avete parlato di solidarietà anche? La solidarietà è l'alimento e il carburante di un'associazione sindacale. Sindaco, qual è il ruolo del sindacato oggi? Oggi è un ruolo intanto quello tradizionale ma devo dire che il ruolo che sta svolgendo il sindacato è un ruolo più ampio, che va anche oltre le funzioni proprio istituzionali e che ha consentito anche di colmare dei vuoti, i vuoti della politica, i vuoti delle istituzioni. Pensiamo che tutti i dibattiti che abbiamo portato avanti in questo periodo, anche nella nostra provincia, li abbiamo portati insieme, sindaci e sindacati.